Salve, sono Emiliano Di Marco e io e il mio assistente vi volevamo augurare buona Pasqua. Salve, sono l'assistente, volevo augurarvi buona Pasqua, ma stavolta ho una domanda per il professorone qui accanto. Visto che è Pasqua, che si parla di uova. Allora, è nato prima l'uovo o la gallina? Ah, ecco, abbiamo una domanda, bene. E, beh, allora questa me la fanno spesso e passa come essere una domanda impossibile a cui rispondere, ma in realtà la risposta è molto semplice. L'uovo. Come, scusi? Cioè, come... L'uovo è semplicissimo. Allora, ci vogliono due secondi a spiegarlo. Allora, è nato prima l'uovo o la gallina? Molto, molto semplice. I dinosauri che abbiamo qui rappresentati facevano uova molto, molto, molto prima che esistesse la prima gallina. E quindi, e quindi, e quindi, e quindi, ho fatto una domanda fessa ed è nato prima l'uovo. Assolutamente sì. Quindi, la prossima volta che vi chiederanno, per mettervi in difficoltà, è nato prima l'uovo o la gallina? Voi rispondete a botta sicura l'uovo e lo fregate. Come abbiamo fregato il mio assistente. Però, in realtà, la domanda che ha fatto il mio assistente nasconde una domanda molto più importante, che è... Come iniziano le cose? Questa domanda, dovete sapere, è una delle domande che ha fatto nascere la filosofia. Perché i primi filosofi si interrogavano, appunto, su questa cosa qui. Com'è iniziato tutto? E' una domanda molto, molto difficile, se ci pensate un pochino. Loro gli avevano dato un nome particolare, perché erano greci, quindi avevano un nome greco, che si chiamava Problema dell'Archè. Eccola qua. Allora, dovete sapere che, per esempio, quello che è famoso per essere il primo filosofo, Talete, di Mileto, è raggiunto alla conclusione che tutto era iniziato dall'acqua. E che la Terra, lui pensava, galleggiasse su un oceano infinito. Talete è stato molto preso in giro, perché diceva anche che gli uomini, in realtà, discendevano dai pesci. E che la vita era iniziata nell'acqua. Un paio di millenni dopo abbiamo scoperto che, in realtà, molto probabilmente, Talete aveva ragione. C'era un altro filosofo, che si chiamava Anassimandro, che invece pensava che all'inizio ci fosse una sostanza stranissima che riuniva tutto, che poi si era divisa e aveva dato origine a tutte le altre cose. Un poeta, che si chiamava Esiodo, invece, pensava, appunto, che tutto iniziasse da un uovo, che era stato partorito dall'oscurità, dalla notte, e da cui poi si era generato qualsiasi altra cosa. Parmenide, di cui forse vi ricordate che vi faccio brevemente rivedere. Saluta Parmenide! Invece, proprio per questo motivo, perché era difficile trovare un'origine a tutte le cose, pensava che tutto esisteva da sempre e che non era mai cambiato e che mai sarebbe cambiato. Vedete tantissime domande. Su alcune di queste domande, in realtà, ancora, ci interroghiamo adesso. Per fare un esempio di quanto è difficile rispondere a questa domanda, vi faccio un esempio. Come è iniziato questo video? E voi direte, beh, con tu che ci hai guardato Buona Pasqua. Sì, ma in realtà è iniziato qualche giorno fa, quando l'ho registrato. Ok, allora lo spostiamo di qualche giorno. Ma non è il vero inizio, perché io, prima di girare questo video, ci ho dovuto pensare, mi sono dovuto mettere seduto, eccetera, eccetera. Ok, va bene. Però ci sono stati anche dei video prima, e così via. Allora, pensate un po' quanto può essere difficile pensare a come è iniziato tutto. Cosa c'era prima? Prima di qualsiasi cosa. È difficile. È una domanda molto, molto difficile. Quindi, io vi lascio a pensare come sono iniziate le cose. Auguro Buona Pasqua ancora a tutti voi, al mio bambino preferito e alla sua mamma. E concludo, ricordandovi come al solito, lavatevi sempre le mani. Mi raccomando. Ciao! 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 Grazie a tutti